Parte da un gruppo di mamme di alcuni comuni del Piemonte, Poirino, Canale, Cellarengo, Chivasso, Montà, Alba, Villastellone, l'iniziativa We Love Arquata a sostegno delle popolazioni e in particolare dei bambini colpite dal terremoto nel centro Italia. La costituenda associazione culturale Api di Carta ha allestito presso le scuole medie di Poirino un centro per la raccolta di indumenti, coperte, lenzuola, scarpe, libri, materiali di igiene e generi alimentari di prima necessità da destinare ai bambini terremotati dell'Italia centrale. Il progetto è stato presentato a Palazzo Lascaris su iniziativa della consulta femminile regionale del Piemonte. Un'iniziativa che parte dal Piemonte a sostegno delle popolazioni terremotate e dei bambini del centro Italia. Sì, appunto, partiamo venerdì con 220 scatoloni preparati da noi mamme di Poirino in collaborazione anche con tante aziende che hanno contribuito a darci materiale, a portare il loro sostegno attraverso di noi e stiamo cercando il più possibile ancora sostegno da parte di tutte le mamme del Piemonte a collaborare con noi e a diventare eventualmente api. La nostra missione parte l'11 appunto, ci fermeremo due giorni ad Arquata del Tronto e zone limitrofe. Abbiamo intenzione di portare appunto tutti questi vestiti che abbiamo preparato, lavato, stirato con tutto l'amore possibile come se fosse per i nostri bambini e la nostra disponibilità a dare un abbraccio, una parola di sostegno a queste mamme e a questi bambini che ovviamente vivono un momento molto difficile.